Stai con me, stai con me, mi piaci così, così come sei Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno Direttamente dall'aeroporto di Bergamo, Oreo al serio Ho appena lasciato mia moglie e mio figlio che sono partiti Senza nessun tipo di tampone perché i cittadini ucraini non ne hanno bisogno Giustamente non servono un cazzo Detto questo, frecciatina ovviamente per chi sa Oggi sarò ancora più impopolare perché qua è la festa degli impopolari Degli impopolars Ormai ragazzi sapete che io la penso diversa a me Chi mi segue sa che se viene qua sente un pensiero diverso da quello della massa Io dico quello che penso, non è che sto lì, a me non mi paga nessuno Quindi io vi devo dire quello che penso dal mio cervello Allora ragazzuoli, partiamo da Donnarumma Poi c'è anche da parlare di Romagnoli, Tomori, Mandzukic eccetera Partiamo da Donnarumma Io sto con Gigi ragazzi Eh mi spiace dirvelo però io sto con Gigi Sto con Gigi non per la questione dello stipendio Sto con Gigi perché per me è il portiere più forte del mondo O comunque uno dei primi tre E lo dico Oggi che è giocatore del Milan Ma anche se dovesse andare via Cioè per me è così Poi uno può essere d'accordo, non d'accordo Potete pensare quello che volete Però per me è così E quindi siccome nella mia testa I campioni non si vendono I campioni non si vendono mai Io sentivo gente che era contenta Quando abbiamo dato via Shevchenko Quando abbiamo dato via Tiago Silva e Ibra insieme Quando abbiamo dato via Kakà Tutte le volte Andatevi a vedere la storia Puttana la galera Andatevi a vedere la storia Tutte le volte che noi abbiamo fatto delle cessioni Che poi tra l'altro neanche lo cediamo Perché va via gratis Pirlo eccetera Tutte le volte che noi abbiamo dato via un campione Da Pirlo Shevchenko Kakà Tiago Silva Ibra Tutte le volte L'abbiamo presa nelle ciappette Perché è un punto di riferimento Se tu Top Club Se tu Top Club Stai dando via un campione Che sia per lo stipendio Che sia perché lo vendi Che sia perché ha mal di pancia Vuol dire che non sei in crescita Sei in decrescita Ok? Ok Inoltre che venite sempre a ripetere La storia di Zidane Che poi abbiamo preso Buffon Tura Perché neanche noi loro Perché intanto Zidane ha vinto la Champions Mentre loro hanno vinto solo gli Scudetti Prima cosa E poi Zidane Cioè ragazzi Zidane Come si fa a vendere Zidane? Vabbè Però Noi del Milan L'abbiamo presa sempre nelle ciappette Quindi tutti quelli No? 10 milioni Se ne può andare Di qua di là Io Spero Mi auguro e spero Che questa manovra Di Magna Magna Magnante Che poi io Non ho niente contro Magnante Non lo conosco Non lo conosco Quindi è niente che mi dice 8 clean sheet Vuol dire poco Voglio Voglio vederlo Voglio vederlo Nel campionato italiano Perché è un conto che giochi con Il Ren È un conto che poi viene a giocare in Serie A Quindi poi voglio vederlo Niente contro di lui Se dovesse venire Ma fino a che Non ci sarà L'ufficialità Io sarò Dalla parte Di Donnarumma Bisogna Trattenerlo A tutti i costi A tutti i costi Bisogna tenerlo Perché È un campione Donnarumma E va tenuto Come tutti i campioni Quindi io A differenza di Ciaranoglu Che lo reputo Un ottimo giocatore Un buon giocatore Quando vuole ma non un campione Quindi Anche se va via Non mi dispero Su Donnarumma mi impunto Su Donnarumma Non voglio che va via Voglio che sia il nostro capitano Per i prossimi 15 anni Anche non capitano Però il nostro portiere Per i nostri 15 anni Perché poi il portiere capitano Non è che mi fa impazzire Però Io Sono dalla parte di Donnarumma So che voi non siete Con me So che voi 10 milioni Se ne può andare Però tutti quelli Che oggi Non scriveranno qua sotto Io sto con Donnarumma Oggi sotto questo video Devi scrivere Io sto con Donnarumma Al Milan Sto col Milan in primis E con Donnarumma Al Milan Ok Sto per il rinnovo Di Donnarumma Ecco facciamo così Io sto per il rinnovo Di Donnarumma Tutti quelli Che non lo scrivono Non potranno Nei prossimi anni Dire Nemmeno a Se il portiere Che prenderemo Chiunque sarà Fa un errore muti 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 Per i prossimi anni Non voglio sentire Niente sul portiere Niente Zero Zero Che poi Cosa pensate Che va via Donnarumma E compriamo Ned Venturame Buffon Voglio vedere Se va via Donnarumma Chi prendiamo Chi dovremmo prendere Voglio vedere Ieri tra l'altro Parlavo giustamente Con Giovanni Stramacci Faccio Ma scusa Ma se la Lazio Non va in Champions Chi vende Luis Alberto Milink No non vende nessuno Quindi non va in Champions Non vende nessuno Quindi evidentemente Non è così importante Se noi andiamo in Champions Donnarumma va via lo stesso Evidentemente sì Perché sta facendo Delle decisioni Indipendentemente Dal fatto se andiamo in Champions O no Quindi ovvio Che cambia Una minima percentuale Ma non è così importante Come vi ho sempre detto Andiamo avanti Romagnoli Er capitano Ieri vi ho detto Titolare Non titolare Se non dovesse essere Titolare stasera Contro la Lazio Vi ricordo Su canale di fuorigioco Facciamo la live insieme Se non dovesse essere Titolare Romagnoli È molto probabile Che quest'estate Lo vendiamo Lo vendiamo Con quei soldi Riscattiamo Tomori Perché più o meno Un 20 milioni Doversi prenderli Da Da Romagnoli No Quelli prendi Non pensare che prendi 40 50 60 Quelli Io mi auguro Che rimanga Però Conoscendo il suo carattere Vedendo come vanno Come gira il mondo Mondo gira Gira il mondo Mondo gira Penso che Se non gioca stasera È perché L'abbiamo Praticamente Messo sul mercato Ragazzi Praticamente Ufficiale Comunque dovrebbe giocare Tomori Meglio Più veloce Più forte Quindi Per noi Meglio Per la partita Però Da considerare Che sarà venduto Ultima cosa Gioca Super Mario Mandzukic Che Non voglio fare Lo sgargiasso Non voglio fare Lo sgargiasso Però io L'avevo già detto Ieri Ma forse anche prima Che vi ho continuato A ripetere Io farei giocare Mandzukic Al primo minuto Perché tutti mi dicevano No ma le ha No ma giocarei Non ci chiamo Con le due punte Non cambiamo modulo E io da ieri Vi ho detto Per me Io farei giocare Mandzukic Perché è giusto L'abbiamo preso Come vice Ibra Non c'è Ibra Deve giocare Mandzukic Ha 40 minuti Nelle gambe Non lo so È uno Che non è che si arrende Mario Non è uno che dici Sei un po' È stanco Chiede il cambio Comunque un finalista Mondiale È uno che ha giocato È segnato Nelle finali di Champions Quindi Non è proprio uno scemo Saprà gestirsi E sono curioso Di vederlo Stasera È una partita durissima E importantissima Perché avendo perso Col Sassuolo I punti che hai perso Col Sassuolo Li devi recuperare Stasera Ma ancora più importante Sarà vedere Il risultato Di Torino-Napoli Io vi avevo detto Che c'era una sorpresa Ieri E infatti la Juve Ha pareggiato Vediamo Torino-Napoli Perché se Napoli Dovesse vincere Anche col Torino Con un Torino Che deve salvarsi Che ha pari punti Col Cagliari Il Benevento E quant'altro E allora il Napoli Se vince stasera È con un piede Nella Champions Anche se rimane dietro In classifica Se vince stasera Il Napoli Ha un piede Nella Champions Se non vince stasera Poi vediamo Fino alla fine Cosa succede Iscrivetevi al canale Mettete like Ci vediamo stasera Sui fuorigioco Vi aspetto Ciao 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 Ciao